Allora buongiorno a tutti, ringrazio l'architetto Tobias Scarpa per la sua disponibilità a questa intervista. Questa intervista rientra nel lavoro che ha lanciato l'ECIA, che è l'European Consentereo Architects. Vi spiego un po' che cos'è questa associazione. È un'associazione europea, viene definita un po' l'ombrella delle associazioni europee di architetti di interni o interior designer, secondo della nazione dove si è. All'interno dell'ECIA ci sono 16 organizzazioni nazionali, tra cui l'Italia, che ha la sua associazione a Milano, che si chiama Associazione Italiana Progettisti di Interni, per la quale ho svolto fino all'anno scorso il ruolo di amministratore delegato e poi da due anni fa sono entrato nel board dell'ECIA. Dentro a l'ECIA ci sono i colleghi di United Kingdom, tedeschi, francesi, svedesi, danesi, insomma un po' tutta l'Europa. L'ECIA lavora moltissimo per quello che è il campo della formazione, tant'è che con il processo di Bologna del 2000 ha lanciato la carta sulla formazione ECIA. E ha lanciato contestualmente tre anni fa questo programma che si chiama Oral History, che vuol dire proprio la storia raccontata, consiste nel trovare la disponibilità di persone come l'architetto Tobia Scarpa oggi, di mettersi a disposizione dei ragazzi, degli studenti, dei corsi di architettura di interni e interagire con loro, trasmettere tutte le sue esperienze, tutto il suo know-how. Quasi tutte. Alle giovani generazioni, che è una cosa che dovrebbe dal mio punto di vista essere fatta anche molto di più a livello universitario, a livello proprio delle scuole di interio. In questo caso ringrazio tantissimo l'amica Liliana D'Altoso, la vostra insegnante, che ha accettato questa mia proposta. Ecco, questo era un po' per fare l'introduzione e il motivo per il quale siamo qua. Quindi adesso passo la parola all'architetto D'Altoso, che anche lei spiegherà la sua scuola dove lavora. Grazie. Allora, noi siamo qui come ISEI, Istituto Superiore di Architetture di Interni. È un istituto, come voi sapete, trentennale, ha un'esperienza trentennale, con varie evoluzioni, fino a quest'ultima, in cui abbiamo queste due sedi con due corsi diversi. Una a Schio, legata più che altro alla rappresentazione virtuale dell'architettura, e invece il corso di progettazione di architettura di interni, Vicenza. Mi pareva molto interessante questa proposta che era venuta da Carlo Beltramelli, perché credo che sia una fortuna per voi avere la possibilità di venire a contatto con un'esperienza raccontata dal vivo, fare delle domande a una persona del calibro dell'architetto Scarpa, e perché si percepisce, anche soltanto stando qui dentro, qualcosa di un po' diverso da quello a cui siamo abituati normalmente. E quindi questo spero e conto che vi trasmetta quell'entusiasmo e quella voglia di lavorare, di far fatica e di divertirvi facendo questo lavoro, perché almeno mi pare che sia uno dei lavori più interessanti che si possono fare, comunque quello che avete scelto. Io non rubo altro tempo e passo direttamente la parola alle domande. In che modo hai iniziato il suo percorso? Io ho cominciato perché dovevo far quadrare i conti di una famiglia nuova, nel senso che come tutti i giovani a un certo momento hanno sogni davanti, hanno programmi, e l'epoca, diciamo che io mi sono sposato nel 59, quindi potrà essere intorno a quell'epoca lì. Ho cercato di lavorare, ho cominciato a lavorare nell'unica azienda, diciamo, viva, che si muoveva in Venezia, per uno come me che sapeva sia tenere in mano la matita, e che c'è nell'ambito muranese, e là fanno vetri. Però ci sono aziende che fanno delle cose con intelligenza, con desiderio di emergere come qualità, e quindi hanno bisogno sempre di gente che ha fantasia, che ha molto gusto, che ha molta cultura, in qualche maniera capaci, diciamo, di indirizzare il prodotto. Però io non sono arrivato subito in una di quelle aziende lì. Sono caduto nella prima azienda che mi offriva da lavorare, che invece faceva bomboniere, vasi per i compleanni, quelle cose là, che era una cosa orripilante, e quindi poco o poco riuscivo a imparare, perché tutto doveva essere fatto molto velocemente, doveva avere un pezzo. Poi un amico se n'è andato in America, ma gli ha vinto un concorso, e questo amico è un grafico bravissimo, che si chiama Vignelli, e mi ha detto, guarda che libero questo posto all'Avenini. L'Avenini era un luogo per me molto noto, nel senso che non solo era un'azienda di primo ordine, ma ci aveva lavorato mio padre. Il mio padre aveva cominciato a lavorare, anche lui, quando era giovane. All'epoca non c'erano le università, però c'erano delle scuole, c'erano le scuole d'arte. Il papà aveva lavorato per un'azienda di due signori, che erano Cappellini e Venini, poi uno, non so cosa fosse successo, è rimasto questo Venini, e i Venini erano andati grandi architetti italiani, come all'epoca c'era Gio Ponti, c'era Bianconi, molti artisti disegnavano, eccetera. Il papà ha avuto modo di lavorare lì, interno, facendo dei vetri eccezionali, quindi conosco questa azienda e sono stato lì qualche anno. Nel 60 è stata fatta, diciamo, c'era questa triennale di Milano, che era anche un luogo importante. All'epoca la triennale per l'Italia era importantissima, in quanto apriva delle finestre sul mondo. Ricordo che in quell'epoca lì, quella che ho vissuto io era più antica, diciamo, della mia esperienza, però io ho vissuto un periodo dell'aternale e Buckminster Fuller è venuto con una sua struttura di cartone, grandissima, rivestita di un telo di plastica, ed era una cosa incredibile, nessuno pensava che si potesse costruire in quella maniera. Costruire per noi, che vedevamo, era appunto costruire un muro di mattoni, travi di legno o di ferro, insomma, al massimo. Non voglio neanche diventare l'uomo della pietra, ma però era una situazione con una serie di prospettive completamente diverse da quelle che abbiamo noi oggi. E lì ho conosciuto Gavina, con il quale ho cominciato a entrare nel mondo della produzione di quello che chiameremo oggi disegno industriale. Ecco, questo è il mio incipit. Che cosa rappresenta per lei l'architettura? Eh, la domanda... È una domanda complicata, nel senso, pur essendo una domanda semplice, e coinvolge le parti più remote della propria coscienza, no? Allora, se devo essere onesto, ho fatto l'architetto perché non sapevo fare altro. E non sapevo fare altro perché io seguivo mio padre da bambino, avevo forse 8, 9 anni, 10, e lo seguivo nei cantieri, ero curiosissimo di come la gente lavorava, quindi poi, una volta introdotto con papà in un posto, tornavo da solo, andavo a vedere dal fabbro cosa faceva, dal falegname, credo di essere stato un ragazzo molto rompiscatole, però, in cambio, io ho avuto la fortuna di conoscere con l'ottica giusta, cioè che non è quello che lavora ma direttamente sul materiale, ma quello che vede lavorare sul materiale, che è un punto di vista specifico, e cioè è quello del governatore, se vogliamo, no? Cioè che deve distinguere se ciò che deve essere fatto si sta facendo, se sta facendo bene, cioè non è quello, e questo naturalmente, dal mio punto di vista, e per rispondere alla domanda che mi avete fatto, è un momento fortunato per questo atteggiamento, cioè in un mondo che tende verso una complessità e una sottivisione di compiti rispetto a quello che può essere un mestiere visto con l'ottica antica, diciamo uno come Palladio oppure con qualsiasi altro grande architetto del passato, era avvantaggiato, e lo erano quasi tutti che sorgevano dalla professione, se conosceva perfettamente la tecnica della lavorazione dei materiali che poi avrebbe usato, no? Cioè, sapere scolpire la pietra, saperla commettere una all'altra, sapere perché la si doveva commettere in quella maniera e in quella maniera, era fondamentale per avere una visione, diciamo, del saper costruire. Mentre il momento più contemporaneo, diciamo che era investito, quando io ho cominciato, era investito da questa modernità tardiva, questa idea della modernità è venuta dopo guerra, perché era esclusa proprio come principio che si potesse, quando noi assistiamo, anche leggendo i testi, guardando cosa succedeva all'epoca, il futurismo nostro italiano si è poi trasformato quando il potere politico è cambiato e quindi si è come involuto, chiuso il confronto tra il resto d'Europa e l'Italia che si legava con la Germania, aveva messo delle condizioni di grandissima difficoltà sul piano culturale e quindi riuscire ad avere sensibilità verso le cose che si facevano all'esterno era molto importante e io ricordo come mio padre facesse fatica a trovare libri e che anche le tecniche di stampa non sono paragonabili a quelle di adesso e quindi era tutto un pochettino più rarefatto e più difficile. Il pensiero moderno era un pensiero correttissimo, soltanto che non dava tutte le risposte come tutte le azioni dell'uomo non sono mai perfette e l'uomo stesso siccome si de-perfeziona costantemente qualsiasi cosa perfetta è inutile per lui. Questo dovete considerarlo non una battuta ma un punto di riferimento per le vostre osservazioni e i vostri pensieri interni segreti. Perché vi fa capire vi potrebbe far capire come va il mondo che molto spesso lo raccontano diciamo il mondo è alla rovescia cioè vorremmo che fosse un modo e poi invece è esattamente il suo contrario cioè l'aspetto negativo è sempre emergente rispetto al resto. E per la professione del costruire colui che costruisce vorrebbe costruire per sempre il grande punto di riferimento sono queste cose fatte così di pietra grandissime che non si sa per quale logica sono state messe secondo un disegno oppure si pensa scrivono libri e quelle cose lì rimangono per quanto la gente vada a rubare vada a portare via pezzi sono ancora là e sono passati migliaia e migliaia di anni ecco l'architettura vorrebbe essere una cosa di questo genere qua duratura grazie a tutti